Non finisce mai di stupire l'ospedale di Locri, infatti, dopo la denuncia dei giorni scorsi sul disservizio al pronto soccorso per i pazienti in codice verde e bianco, nel pieno della stagione estiva, dove gli accessi al pronto soccorso subiscono un notevole incremento, quando pensi che si è toccato il fondo all'ospedale e si scava per andare ancora più giù. È successo mercoledì pomeriggio, dove nonostante la mancanza del medico per i codici meno gravi, per essere coerenti con il servizio è stato dimezzato anche il numero degli infermieri. Infatti, una buona organizzazione del pronto soccorso di Locri prevede un medico e un infermiere per i codici verdi e bianchi, due medici per i codici gialli e rossi, due infermieri per i codici gialli e rossi e ancora due infermieri per l'osservazione breve e intensiva e il percorso sporco. Lo scorso pomeriggio, quindi, su otto sanitari erano disposti in servizio solo quattro, ovviamente un numero irrisorio per raffrontare le esigenze di un territorio che comprende 42 comuni e circa 130.000 abitanti. Dunque non ci resta che aspettare la prossima sorpresa, ormai è rimasto poco da togliere, manca solo la chiusura delle triaggi per sprofondare nell'anarchia totale delle persone.